L'obiettivo di questa lezione è determinare l'integrale generale di un'equazione differenziale omogenea a coefficienti costanti nel caso in cui l'equazione caratteristica abbia discriminante nullo. Per esempio, consideriamo l'equazione differenziale y' meno 6y' più 9y uguale a 0. La sua equazione caratteristica è λ²-6λ più 9 uguale a 0. Osserviamo che ha discriminante nullo, quindi ha due radici reali coincidenti λ1, λ2, entrambi uguali a 3. Di conseguenza, il metodo del polinomio caratteristico, in questo caso, ci permette di trovare una sola soluzione dell'equazione differenziale y1 uguale a e alla 3t e, ovviamente, tutte le funzioni multiple di e alla 3t. Ma per trovare l'integrale generale dell'equazione differenziale ci occorre un'altra soluzione linearmente indipendente da queste. Come fare? L'idea è non discostarci troppo dalle soluzioni precedenti. Allora, cerchiamo una funzione c in modo tale che la funzione y2 uguale c e alla 3t risolva l'equazione differenziale omogenea. Vediamo quali devono essere le condizioni su questa funzione c. Per farlo, calcoliamo le derivate di y2 e sostituiamo nell'equazione differenziale. Così, otteniamo un'equazione in cui compaiono c, c' e c' . Semplificando per e alla 3t e raggruppando i termini simili, si vede che tutti quelli contenenti c e c' si elidono e rimane semplicemente c' uguale a 0. Abbiamo così ottenuto la condizione sulla funzione c, e cioè che abbia derivata a seconda nulla. Per trovare le funzioni c che hanno derivata a seconda identicamente nulla, è sufficiente integrare due volte, e sono quindi date dalle funzioni c1t più c2 per qualsiasi scelta delle costanti c1 e c2. In particolare, una funzione che soddisfa la nostra richiesta è la funzione c uguale t. Abbiamo così dimostrato che la funzione y2 uguale t e alla 3t risolve l'equazione di partenza. Osserviamo poi che y2 non è proporzionale a y1, infatti il rapporto tra y1 e y2 non è costante. Conosciamo ora due soluzioni linearmente indipendenti dell'equazione differenziale di partenza. Quindi, grazie al teorema di struttura, il suo integrale generale è la combinazione di y1 e y2 per qualunque scelta delle costanti reali c1 e c2. L'argomento utilizzato nell'esempio ha di fatto validità generale. Consideriamo, infatti, una generica equazione differenziale del secondo ordine, lineare e omogenea e a coefficienti costanti. E supponiamo che il polinomio caratteristico P di λ abbia discriminante uguale a 0, cioè che b²-4ac sia nullo. Questo significa che l'equazione caratteristica ha due radici reali coincidenti. λ1 uguale λ2 uguale meno b fratto 2a. Si può dimostrare, ripetendo la stessa procedura vista nell'esempio, che le due funzioni y1 e y2 date rispettivamente da e elevato λt e da t per e elevato λt sono linearmente indipendenti e sono soluzioni dell'equazione differenziale. Grazie al teorema di struttura concludiamo che tutte le soluzioni dell'equazione differenziale sono nella forma y uguale c1 elevato a λt più c2t elevato a λt, al variare di c1 e c2 in R. Facciamo un altro esempio. Risolviamo l'equazione y2 più 4y' più 4y uguale a 0. Scriviamo il polinomio caratteristico, p di λ uguale λt quadro più 4λ più 4 e cerchiamo le sue radici. Quindi scriviamo l'equazione caratteristica λt quadro più 4λ più 4 uguale a 0. Calcoliamo il Δ, b quadro meno 4ac, 16, 16 meno 16 uguale a 0. Allora, questo è un quadrato perfetto, quindi scriviamo l'equazione caratteristica come λt più 2 al quadrato uguale a 0 e le due soluzioni reali coincidenti saranno λ1 uguale a λ2 uguale a meno 2. A queste due soluzioni coincidenti corrispondono una prima soluzione all'equazione differenziale y1 di t uguale a e alla meno 2t e poi una seconda, che sappiamo scrivere dalla teoria come t per e alla meno 2t. Ora, applichiamo il teorema di struttura e scriviamo l'integrale generale come combinazione lineare di queste due soluzioni. quindi y di t uguale, raccogliamo e alla meno 2t, c1 più c2t per ogni c1 e c2 in r. Ci proponiamo ora di arrivare al risultato precedente, cioè il fatto che nel caso Δ uguale a 0 l'equazione differenziale ha una soluzione uguale a t e alla λ1t con un diverso ragionamento. Supponiamo di avere un'equazione differenziale omogenea con due soluzioni y1 e y2 distinte, corrispondenti quindi a due radici reali distinte λ1 e λ2. Il polinomio caratteristico ha quindi discriminante maggiore di 0. Poiché l'equazione è lineare e omogenea, ogni combinazione lineare di y1 e y2 è ancora soluzione dell'equazione. In particolare possiamo scegliere c1 uguale a meno 1 diviso λ2 meno λ1 e c2 uguale a 1 diviso λ2 meno λ1, ottenendo una certa funzione, diciamo φ, che è ancora soluzione dell'equazione omogenea. Vogliamo studiare il comportamento di φ quando λ2 tende a λ1. Per fare questo poniamo λ2 uguale λ1 più ε e poi faremo tendere ε a 0. Sostituiamo λ2 in φ, ottenendo questa funzione che dipende da λ1 e da ε. adesso facciamo tendere ε a 0 studiando come si comporta φ per t fissato nel passaggio al limite. Ricordando il limite notevole, si ha che facendo tendere ε a 0 il secondo termine di φ tende a t e quindi φ è uguale a e alla λ1t per t. Possiamo quindi concludere che la funzione limite e alla λ1t per t risolve l'equazione differenziale limite che corrisponde a un polinomio caratteristico con due radici coincidenti pari a λ1. Grazie. Grazie.